... Sabato 26 giugno, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati. All'appuntamento con la nostra rassegna stampa prima della lettura dei quotidiani, diamo uno sguardo agli ultimi numeri diramati dall'ASREM sul fronte contagi. In Molise 4 nuovi positivi su 386 tamponi effettuati, nessun ricovero e neanche un decesso con il tasso di positività che adesso è all'1%. Il totale dei contagi è di 85, nessun trasferimento in terapia intensiva, quindi sono 8 gli ospedalizzati, i decessi fermi a 491. Primo piano Molise, variante Delta, 4 casi sospetti. Oggi l'esito appello di Toma, aderite alla campagna di vaccinazione, continuate a igienizzare le mani e rispettate il distanziamento monito ai ristoratori. Osservate e fate osservare le regole, intanto il bollettino 4 positivi e 4 guariti, un ricovero e un dimesso tasso. All'1% ASREM, ultimi giorni di scafarto, Giorgetta in pol per la sostituzione, intanto convenzione in scadenza, cala il sipario sul palaunimol. Chi ha ricevuto la prima dose al centro, allestito in via Manzoni, per il richiamo sarà convocato alla cittadella di Selvapiana. Il punto, a firma di Umberto Berardo, educazione affettiva e sessuale, gazebolega, raccolta firme per il referendum, intanto Salvini. Sarà in Molise tra il 3 e il 4 luglio, Campobasso inaugurato, il monumento ai caduti dell'arma. Dentro la notizia, anno accademico, l'unimol brucia le tappe, iscrizioni e immatricolazioni al via dal 1 luglio. Il calendario scolastico, rientro in aula, fissato al 15 settembre, ultima campanella l'8 giugno, mentre per l'infanzia, fino al 30 giugno, il disservizio canicola infernale, si boccheggia anche all'ospedale Cardarelli, aria condizionata. K.O.P., lo sport con il taglio alto, parla del Campobasso a occhi aperti, lo slogan per gli abbonamenti, Levigas, top sponsor fino al 2024. 24, Futsal, bella soddisfazione per il CLN Cus Morise, che centra il trofeo disciplina, mentre per la palla canestro, Coppa Italia, Under 20, Magnolia, tra le prime quattro. Passiamo adesso ai quotidiani nazionali, variante Delta, ma anche lo strappo in politica tra Conte e Movimento 5 Stelle, il titolo del messaggero, meno vaccini. L'Italia rallenta, variante Delta al 16,8%, ipotesi, zone rosse locali, il commento del Premier, l'emergenza non è finita, c'è anche l'allarme da parte delle regioni, poche dosi a luglio, intanto per le discoteche, solo all'aperto, al 50%. E con Green Pass la stabilità richiesta a un partito di governo rissa 5 Stelle, ne parla nell'articolo di spalla Mario Aiello, all'interno Unione Bancaria, strappo di Draghi, termini inaccettabili. Così non si fa assi Roma, Parigi, Germania con i falchi. Caos 5 Stelle è pronto a lasciare Grillo Furioso, Di Maio, mediatore, intanto il Partito Democratico teme la scissione dei grillini. Il garante denuncia sindacati, fantasma danno per chi lavora, rapporto alle camere dell'autority sugli scioperi, troppe sigle che hanno poca rappresentanza. Poi l'immagine centrale dedicata alla cronaca, ciò che è avvenuto in Sardegna, Fernando More da papà eroe salva figlia e due amichette dall'annegamento, il cuore cede. Passiamo così al Corriere della Sera, così cresce la variante Delta aumentata di quattro volte da maggio, Draghi minaccia la ripresa, il Covid. C'è ancora intanto il Comitato Tecnico Scientifico, dice sì alle discoteche all'aperto con il Green Pass e tutta l'Italia da lunedì sarà in zona bianca. Assumere chi merita ed è utile lo Stato, gli sprechi, l'articolo di Sabino Cassese nel taglio alto, invece la politica, Conte pronto a rompere con i 5 Stelle. Voglio scuse pubbliche da Grillo, intanto il sondaggio con la Lega incalzata dal Partito Democratico e da Fratelli d'Italia. Passiamo alla Repubblica, Conte con i 5 Stelle è finita. Tra l'ex Premier e Grillo sui poteri del leader nel nuovo statuto non faccio il figurante, commenta Conte, ultimi tentativi di mediazione di ministri e capigruppo, il movimento verso l'ennesima scissione. Intanto sul fronte licenziamenti, blocco prorogato per tessile e scarpe, il commento Draghi in equilibrio sulle rovine grilline, il retroscena, l'ultimo strappo sugli esteri, il racconto, la prevalenza del Waffa. Il reportage nel taglio laterale, il Pride di Budapest e l'Europa deve aiutarci con l'immagine centrale dedicata al TikToker Kaby Lame. TikToker da un miliardo di like, il mio linguaggio muto supera tutte le barriere. Figliuolo da vaccinare ancora, 200 mila professori, allarme, variante Delta, le regioni, poche e dosi. Intanto a Brindisi morto di lavoro sotto il sole per 6 euro l'ora, aveva 27 anni. Passiamo al fatto quotidiano che apre sulla rottura in casa 5 Stelle, 5 Stelle due giorni per non morire. Conte non ci sta, Pontiere al lavoro, ma Grillo non si muove, il D-Day sarà lunedì, l'ex premier riceve i big. Il problema non è personale, è politico sui ruoli del garante e del capo, il grosso della base. Sta con lui, la variante Delta nel taglio alto, ipotesi zone rosse, i dati di tutto il mondo. Il sole 24 ore apre invece su Wall Street, settimana record spinta da banche, inflazione e piano Biden. La borsa USA estende i guadagni con l'S&P 500 ancora sui massimi prestiti. L'Unione Europea autorizzerà l'allungamento. A 8 anni la garanzia scende all'80%. Si parla di sostegni. La holding Camfin, il cinese New, entra con il 30%. Riassetto della catena Pirelli Camfin atteso subito dopo l'estate. Il controllo resta a Tronchetti Provera. E adesso lo sport con la Gazzetta che apre con un'immagine sull'Italia. Questa sera gli ottavi di finale a Wembley. L'Italia spinge l'Italia. Londra contro l'Austria siamo i favoriti ma ci giochiamo tre anni di lavoro con Giorginio più Verratti che Locatelli il doppio play. L'arma in più, intanto Mancini carica la squadra. Un tempio così va rispettato. Sulla polemica di restare in ginocchio e in piedi all'inizio della gara la squadra deciderà all'ultimo minuto riunione nella notte. Se si vede i rigori tra i cinque anche i difensori. Una storia di gioie e dolori sugli 11 metri. L'Italia anche si sta organizzando. Intanto la salernitana affidata a un trust ma deve passare. L'esame FIGICI. Il club andrà ceduto in sei mesi. Amministratore un ex generale della finanza. Adesso diamo uno sguardo agli appuntamenti previsti per quest'oggi sulla nostra rete. si parte alle ore 11 con Conto alla rovescia. Alle 14 l'edizione del telegiornale che si ripeterà questa sera alle 19.30. Alle 21 l'appuntamento con Paese Mio. Alle 23 l'ultima edizione del TG News. Con questo è tutto. Grazie per averci scelto. A tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie per averci scelto.